E' per te. E' l'Azhar è la più grande istituzione islamica del mondo e hanno scelto te. Sei nuovo qui? Sono appena arrivato. Benvenuto. Si sente bene, Sheikh? Come sapete tutti, il grande imam è morto ieri. La scelta del grande imam è questione di sicurezza nazionale. Il presidente vuole che sia Beblawi. Fate sì che venga eletto. Sono stato esposto. Dovete lasciarmi andare. Trovami un nuovo angelo, una matricola senza legami. Adam incarna lo studente modello. Nessun parente al Cairo? No. Ci serve il tuo aiuto. I fratelli musulmani si sono infiltrati in Elasar. Prega e osserva chi altro sta pregando. Ricorda i loro volti, impara i loro nomi. Adam. In che cosa ti sei cacciato? Per chi lavori, dimmelo. Devo parlarti di una cosa. Rischia di distruggere la reputazione di Elasar. La pena per i traditori è la morte. 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 La pena per i traditori è l'amore. Grazie a tutti.